no per la macchina io sono giusto a lutto a ste casette qua sanno a piedi ci mettevano a vita hai qua che girano nella campagna ancora nel buio carone buio faccia un micro io ho bisogno di caricatori estesi non ho trovato neanche uno oh shit a me si prendilo prendilo orgo let's go a me l'ump mi ispira sempre un po di più oppure no oppure no dai mi tengo il cubi z fottutissimo guardiamo le case a sinistra il mazzo di casa a sinistra ok arriva qualcuno in macchina o siete voi noi abbiamo parcheggiato ok arrivo qui se volete c'è un 4x ok prendo su prendo su prendo su prendo su prendo su prendo su lo do è un'altra macchina a pesce oh oh ah ma un manico e un mirino d'altro in su eeeh ok io continuo a necessitare io ho un 4x se vuoi buono arrivo thank you a qualcuno gli interessa un impugnatura angolata un coprifiamma da sr a dm copritura angolata ma chi è che spara? da 320 morde circa dall'altra parte della collina farò valere il mio super fucile da cecchino dove sei? Sanchez qua dove sei? ti lascio il coprifiamma qui che cazzo sta? grazie mille che cazzo sta? io ho anche il suppressor che diamine? ecco il last sta vicino alla pietra quello che la moto sta salendo nord doveva salire in cima la collina ah si è nascosto dietro agli alberi il merda ok sono le case penso oltre le case oh da di qua tirano da sopra? si oh l'ho noccato con un super shot sopra la montagna sono sopra la montagna a nord west preciso a nord west preciso? si ah visto 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 il suo mico morire brutta scena hai preso la kill? no è dietro l'albero il tipo ma in cima? faccio esplodere la moto buono prima data si non vedo neanche la moto si in alto ce n'è un altro come vi dito l'albero si l'ho noccato mi sa no l'ho solo colpito due volte con l'SKS ah adesso li vedo ah oh io l'ho noccato io l'ho noccato non muore mai col tipo la è uno è morto fatto l'ho tirato giù uno è dietro l'albero ferito dittato no è andato di là ah no è di nuovo lì cerca di andare dal cadavere è dal cadavere lì sopra nooo è andato è andato è andato è andato pezza di merda te l'avevo te l'avevo stancato andiamo in ste casette qua che devo lutare dei colpi gialli ma sparavano di qua eh sparavano oltre penso siamo attenti oh abbiamo il drop sopra non se ne ancora spari all'aereo e droppa non lo so chi è che spara? io ha droppato qui sopra ah allora vedi vai potete prendere voi che io sono super coppato c'è qua le treperte orgo ti serve? eh si ti butta per terra dei colpi se c'avete i colpi gialli quelli so buoni che me li so sparati tutti ah eccoli eccoli in quantità vai posto posto io ripeto semplicemente se mi trovate almeno un caricatore esteso di quelli da air normale ma solo il calcio è il caricatore del fucile da cecchino oh qua c'è il compensatore fucile d'assalto eh qua c'è il compensatore del fucile d'assalto no no dicevo oh è qui è droppato è droppato è sceso è sceso ah ho fatto una kill volevo dire cioè ah ok non ho capito chi comanda adesso chi va? ve lo guardo ve lo guardo oh da dove? l'altra parte l'altra parte della dalle case la fai tirami su oh ho preso proprio ok c'è la fai tirami su vieni qua eh ero qui dietro eh devi venire qui oh fermo pure ti servono no 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 a sinistra snow a sinistra io lo sto cercando ma non li vedo sono ovunque allora aspetta ma non grusa eh io sto tenendo sotto sottomira la cassa l'hanno già presa penso no fuma ancora di rosso però eh me l'hanno presa no 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 quanta cazzo si nascondono stronzi vediamo i ne sono per cazzo è porco dio ma tanto se vogliono venire mi sa che da qua devono passare no 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 per niente eh però sono anche per niente Eccolo Hai visto? 115 gradi dietro al sasso Sì, ho visto In alto o in basso? E quel sasso... Il sasso è in basso Inzino alle case Ok, quello largo Mi sa tuttissimo No! Che in zona orco Oh, morto, morto, morto E siamo due Arrivo a te orco Sì, mi infilo dietro sta parte di muretta che è un po' più alta Ok Ho fatto due kill E uno con il car Basta, mi sento troppo bravo Io invece mi sta annoiando Li stanco tutti C'è gente nella casa Sono ancora di là Dietro la cara c'è un tipo Dentro la casa pure Sì Dove sto sparando, vedi dove sparo Assolutamente no No! Ok, però l'ho sentito Corro da te Oh, l'ho preso L'ho messo giù E anche lui ha messo giù me Curatemi Ci siamo ammazzati a vicenda Tira su Snow Sì Allora C'è uno noccato nella casa Quello col casco al 3 sta noccato Abbiamo 30 secondi, è veloci Porca puttana Eh E la zona è lontano Dobbiamo girare tutto da sinistra Lunghi Mmm Andiamo Tiratevi su, curatevi Sì Come ho detto Mi stavano scrivellando Dobbiamo andare verso 335 E fare il giro dietro le nostre case E star coperti E andarcene Eh, io sto già correndo in là Allora Vedo, vedo Eh sì, Orko Ma 5 secondi e chiude Dobbiamo fare un giro lunghissimo Eh, ma io sparavo il tipo Si stanno sparando Eh sì, ma Con degli altri che sono in alto Andiamo al ponte Sì Aveva l'elmo al 3, mille robe Ah, c'ho per forza Per giù il drop Hai ragione Senza armi Quanto fa male Minchia se fa male Non ci credo Non ci arrivi a mica Te l'hai facita ai, Dorko No, forse riesco a superare Ma ha superato Sono riuscito a superare la linea Allora, se no 2 1 Vai Ce la faccio Per un micron Ma ce la faccio E poi non ho più cura Se avete un first aid Eh, ce ne ho Ce ne ho, ce ne ho Io Vai Le do, le do Entrò nella casetta qua Cazzo Invece anch'io nella casetta C'è mezzona qui, eh Sì Nesta casa qua Chiudo, chiudo Ok 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 No, quante cure ti servono? Ah tu, io c'ho solo 5 bande praticamente Ok Aspetta che arrivo, intanto mi bando Sennò finica un colpo che vado giù Eh, 2 ne dobbiamo ammazzare, 4 siamo noi, dai Oh beh Aspettiamo allora Che siamo quelli là di Labo No, quante cure hai te quindi? Zero Allora vieni qui Sanchez, te ci c'è un elmo Che cazzo Prendi su qui Me l'hanno fatto fuori Hop Uscendo dalla casetta Andiamo qui su da vedere o C'è fatto che vado adesso C'è un elmo qui in giro Puttana Eva Ti do una mano a cercare Sì, anch'io non ce l'ho più Che culo Ho appena trovato un giubato al 3 Ah All'ultimo è una cosa un po' bruttina Andiamo qui sulla collina Perché sicuro è uno di quei team là Quel team là era solamente un team No, erano due avete detto che si stavano sparando No, uno l'abbiamo fatto fuori un team Vabbè provo ad avanzare io dai Aspetta, 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 aspetta Si sta chiudendo E io mi sto curando Poi dobbiamo stare tutti vicini Questo al massimo Finisco questo e poi andiamo Vabbè Cioè, aspetta Doviamo andare in giro per le 7,5 a 8 Quindi abbiamo tempo Guardiamo qua Facciamo il giro da destra di qua Ok, ce n'è uno Ce n'è uno a 60 Ne ho visto uno qua da me A 130 Sto facendo il giro, sto facendo il giro Sto facendo il giro Dov'è? Tu? Io ho lanciato molto Ormai è dietro la collina Sa qua dietro lo scollinamento di terra Ah Pirato qua Secondo me ci fa il giro da dietro Allora Io li provo a prenderla Assaltiamoli Siamo in quattro Aspetta un'altra Eh, esatto Dovremmo Ecco qui davanti Mi ha fatto Io non lo vedo Ok Vai Ho acceso l'altra Balla Due uccisioni E tanti knock Eh, no Ci sa Dovete andare te, Ale Chish Grazie a tutti.